la campana E andiamo verso la parte di Cristino, da adesso Cepa, e dal prossimo giro, in tre, salata ai voti, per cui sta 10 milanciari i voti, finale, 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 literally, Grazie. 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 E andiamo da 15 punti, 155 con 3, 2, 2 e 111 stop, forse a cuore. E andiamo a sprint per i punti, 155 con 3, 2 e 111 stop, forse a cuore. E partirà anche il numero di trattati, il classico, il numero di trattati. Siamo arrivati al passato del 13, adesso sottolineiamo la cappata, qui dal 4, 2 e 111 stop, forse a cuore. Sottolineiamo, adesso daremo il trattato, il prossimo giro, la passata del 13, ci sarà il trattato e i punti. Vediamo unissimo attacato questo trattato, è un punto bellissimo aggardo. Sottolineiamo il trattato, è un punto bellissimo aggardo. Un punto bellissimo, è un punto bellissimo, è un punto bellissimo. E andiamo da un punto bellissimo, è un punto bellissimo. Sottolineiamo il trattato del 13, adesso sottolineiamo la cappata, qui si si fa solo, puoi, per ogni sicuro passato. passaggio andiamo con questo passaggio numero 11 si fa attaccare dei punti 11 per il gioco di denaro e 36 per la rata e via si fa attaccare una persona in fondo cosa è quanto è ma il fatto ci meti e 11 ragazzo da mano fritter passaggio fritter passaggio 111 sopra lo stavo bene 11 ragazzo andiamo è un altro momento con il nuovo street per il passato a me 8 altri punti si riuscirà a contare al finale altri punti anche il senso del giro che si fa a casa il numero 5-5-5 che è un ragazzo e 5-1 si trova lo stavo bene molti ringrazio passato almeno 7 sempre meno di giri per la porta a casa 5,5,5 e 111 stop siamo passati almeno 6 4 ragazzi ma è italiano che porto alla fine di questa fine di una fase 10 in aereo finito arriviamo a dire di porta a casa di porta a casa il numero 11 il caderno del minare 11 stop per salvare il numero 11 è stato spinto al passato al 5 la tene di perai sono sempre scorsati 11 ragazzi la tene di perai ha portato a quelle al passato meno 5 frivale frivale 4 abbiamo un numero 5 troppo per le altre parti e tutti ci sta a passare a vedere direi che il gruppo non vale chiaro abbiamo questi 6 che si stanno in posizione per ora sono loro che stanno volendo la gara vediamo un po' come si scontulerà possiamo dare passaggio a 1,1,3 e abbiamo passaggio e spritter a fare il gruppo che si fa da casa 5,5,5 e non ci si stiamo e non ci si stiamo e non ci si stiamo passaggio a 2 e non ci si stiamo passaggio a 2 e arrivano punti passaggio a 2 basta non fatti senza la casa 5,4,1 5,4,1 5,4,1 non ci si stiamo con la campana quindi punti e campana e andiamo passaggio campana ultimo tiro i punti di prende in questo giro 11 manchiamo il terzo l'ultimo tiro quindi prenderemo il primo il secondo e il terzo con i punti il primo il primo in quarta la 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 e la 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 è la in la 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 Eccolo qua, bravissimi ragazzi!